Elogio del baule e della valigia. Se potessimo aprire il bagaglio di Ghete poco dopo che lo scrittore ha barcato il Brennero, cosa vi troveremmo? Una buona maglia, un soprabbito adatto a tutte le stagioni, tre paia di calze, camice, fazzoletti, una descrizione storica dell'Italia in tre tomi, alcune carte geografiche e topografiche, l'occorrente per disegnare, le sue opere manoscritte e una piccola collezione di minerali e di ciottoli raccolti per strada, quarsi, calcari, marmi, il tutto distribuito in un portmante e in una valigia di pelle di tasso. Più o meno lo stesso corredo troveremmo nel sacco di Henry Bale, sin da quando scorrazzava per la penisola con l'esercito napoleonico, con l'aggiunta di un paio di scarpe con dentro una borsetta contenente un rasoio, forbici, ago e filo. Ci sono poi viaggiatori che percorrono l'Italia a piedi, come abbiamo visto, con un bagaglio ancora più spartano e altri che invece si portano dietro la casa. In fatto di bagagli, nelle lettres et crit de Dunkerque di Victor Hugo, viene annotato, annota Victor Hugo, che al cambio di posta la dirigenza soleva apparire sempre piena di viaggiatori e nel contempo stracolma di pacchi e di pacchetti. La valigia di cuoio, fatta volare sull'imperiale, conteneva una quantità enorme di effetti ed era gonfia come il gilet di un borgomastro. Protagonista indiscussa dell'arte del viaggiare, la valigia contiene tutto ciò a cui il viaggiatore non può e non sa rinunciare. L'abitudine a portare con sé capi di vestiario, utensili tanto familiari quanto inutili, non conosce limiti. È come se loro tramite o per mezzo di surrogati delle comodità domestiche, il viaggiatore volesse esorcizzare l'imprevisto e l'ignoto. Valigie per il genere di viaggi e i contenuti più diversi evolvono ora dal cofano o dal baule, con notevole dispiegamento di chiodi e di rinforzi agli angoli, visto che il bagaglio passa direttamente dall'imperiale al selciato o al fango della strada. Ora, dal suo lontano prototipo consistente in una pezza di cuoio arrotolata sugli averi da imballare e stretta da cinghie, fra 600 e 700 si afferma una valigeria varia e funzionale che comprende, la terminologia è francese in omaggio a una consolidata tradizione, la vache di cuoio rigido, dalla forma a parallelipipedo con coperchio, originariamente a cerniera, fermato da cinghie, adatta al cassone posteriore o al tetto della carrozza. Il V, anch'esso di pelle, ma più morbida, capace di plasmarsi secondo i ricettacoli o gli angoli della vettura. Il sac de nuit, di tessuto da tappezzeria o di tela doppia, chiuso da una cordicella che funge da manico, contenente ciò che il viaggiatore tiene a portata di mano nelle soste o nelle nottate che trascorre in vettura. Da questi tre modelli base derivano molti altri tipi dalle forme diverse, muniti di soffietto e di molteplici manici che consentono la massima capienza e maneggevolezza, e in materiali diversi e sempre più consoni come la tela impermeabile per preservare nel migliore dei modi il contenuto. Viaggiatori più esigenti o in movimento con la famiglia distribuiscono i propri effetti incapaci bauli che trovano sistemazione sul retro della carrozza. Eredi dei preziosi cassoni rinascimentali in cuoio sbalzato e decorazione chiodata, i bauli che incontriamo nel 600 e dal 600 all'800 sono di legno con copertura di pelle, di tela o di tela cerata, con rinforzi e salvaspigoli di metallo o centinatura esterna in pioppo. All'interno si dividono in più scomparti, a somiglianza del guardaroba. Mariana Stark ha lasciato precise istruzioni per l'uso, secondo le quali ogni baule dovrebbe essere munito di un telaio composto da assi di quercia piatte e lisce della lunghezza dell'intero baule, trattenute da strisce incrociate dello stesso materiale usato per le cinghie delle selle. A sua volta il telaio dovrebbe essere strettamente assicurato alla parte superiore del baule, già riempito, per mezzo di cinghie con fibbie ancorate sul fondo, in modo che in seguito ai sobbalzi il contenuto non venga mai mosso dalla posizione originaria. Si dovrebbe inoltre proteggere il baule con una copertura esterna di spessa tela di olona colorata. Accanto ai bauli e alle valigie, spesso simulandone la foggia, troviamo portaletti, portaabiti, cappelliere e perfino portacolletti. Non sono forse i manuali di viaggio che consigliano il viaggiatore previliente di munirsi di una cucetta, di sacchi a pelo di pelle di pecora, cuscini, coperte di lana, federe, lenzuola, una zanzariera di velo sottile, per Marianna è d'obbligo in Italia, asciugamani, tovaglie, tovaglioli, non belli ma resistenti all'uso. Talora, come è facile immaginare, non si tratta solo di assicurarsi comodi e agi, bensì di poter estendere il viaggio a zone inospitali. Il viaggiatore che nell'Ottocento devia dalle grandi arterie per addentrarsi in zone accidentate e sguarnite di locande, dalle Alpi alle Calabrie e alle isole, deve poter contare su utensili di prima necessità e su elementari provviste, dalle pentole ai materassi. In Sicilia si mangia soltanto ciò che si porta con sé, scrive Dumas, ma lo stesso dirà Hugo, dei Pirenei. Da queste parti non ci sono alberghi, incalza lui Simon, per cui bisogna avere con sé la caffettiera, il letto, la marmitta, il bicchiere, la lampada, il caffè, lo zucchero, salvo che non si voglia farne a meno. Insomma, ci sono zone e cammini nei quali il viaggiatore deve assumere la mentalità di un novello Robinson. Un paio di maneggevoli pistole. Appena salito in carrozza, il viaggiatore fissa con una catena, un apposito gancio del pavimento, una cassetta ferrata. Giunto alla locanda, la prima cosa che fa è legare la medesima cassetta alle gambe del letto. Il piccolo forziere portatile custodisce il suo futuro, poiché contiene la documentazione che ne certifica l'identità e la possibilità di movimento, il lascia passare per vari stati, le bollette di sanità, le lettere di presentazione e il denaro contante. Coricarsi con a fianco la spada, ottenendo il pugnale sotto il cuscino, è poi il consiglio che il Misson, come tanti altri redattori di guide, rivolge al viandante che alloggia in una comune locanda nel corso del Seicento, mentre il Raycard gli suggerisce di avere sempre a portata di mano un paio di pistole cariche o, per dirla con il gergo dell'epoca, una coppia di maneggevoli tersaroli. Non è un caso se a metà del Settecento il diario di Stern registra con gran dispiacere in quel di Siena il furto di una scatola di mogano con un paio di pistole a opera di sconosciuti masnadieri. Un secolo prima la dotazione delle armi da viaggio risentiva del clima fosco e della macchiavellica dissimulazione che imponeva, fra le armi da difesa più ricorrenti, l'uso di un innocuo libro di preghiere che, aprendosi, faceva scattare il cane di una pistola riposta all'interno, oppure l'impiego di bastoni animati, magari con la punta della lama in tinta nel veleno. Ma, per quanto suggestivi, i tempi di un'Italia da tragedia isabettiana cambiano inesorabilmente, anche se quella di portarsi appresso delle armi resta un'abitudine consolidata. Lo dimostra l'oracolo del Kitchener, il quale impartisce precise istruzioni sulla manutenzione delle pistole nel corso del viaggio e, in particolare, sulla necessità di sparare di tanto in tanto un colpo fuori dalla finestra della locanda, per poterle poi ripulire con cura e ricaricare con polvere asciutta, onde averle sempre pronte e funzionanti alla bisogna. Quanto alla strumentazione scientifica, la formazione baconiana dei viaggiatori, specialmente britannici e fiamminghi, fa sì che molti siano muniti di cannocchiali, barometri, saranno indiversi a registrare temperature e variazioni del tempo durante il viaggio, altimetri, odometri e podometri per compiere annotazioni varie e di materiale idoneo a effettuare rilievi topografici o scavi archeologici. Istruzioni sulla strumentazione scientifica vengono date in particolare dai trattati di Robert Boyle e di Linneo. Un discorso a parte meritano gli scrittori portatili, le cassette da pittura e le camere ottiche, di cui parleremo sotto. Cofanetti di delizie. Per gli numerevoli utensili che contiene e per le funzioni alle quali edempie, il nécessaire de voyage è lo strumento che più di ogni altro è connesso all'arte del viaggiare. Anzi, è l'oggetto prediletto del viaggiatore, il confidente segreto dei suoi desideri, il lenimento delle sue ansie, il suo trastullo preferito. Questo straordinario feticcio compare alle soglie dell'età moderna e non cessa di perfezionarsi sin quasi agli inizi del Novecento. Nel corso di una continua evoluzione passa dalla forma del semplice astuccio alle dimensioni di una valigetta di legno pregiato, intarsiata o incrostata di madreperla e di tartaruga, ingegnosamente stipata di oggetti della vita quotidiana. Come succede per tanti aspetti connessi al viaggio, il nécessaire, il termine entra in uso nel secolo d'oro dei viaggi, si presenta come oggetto di lusso atto a perpetuare nel viaggio le abitudini e gli agi della vita domestica. La tradizione blasonata che lo caratterizza, derivante dall'essere in varie occasioni amatissimo e preziosissimo dono sortito dalle mani di artigiani provetti, condiziona l'immagine del nécessaire, allo stesso modo in cui l'alta perizia con la quale sono realizzati singoli oggetti d'oro, d'argento, di finissima porcellana e la maniera in cui sono assemblati nella cassetta di Mogano o di Palissandro del Brasile. Ne fanno passare il secondo ordine la pur eccezionale funzionalità. Verso la metà del Settecento, la zar de Vaux è il miglior artigiano per la creazione del SSR da viaggio. Suo è quello che Luigi XV regala al duca d'Aumont nel 1758, costituito da un contenitore di noce foderato di seta azzurra, con quattro bottigliette di vetro tagliato munite di tappo d'argento, una coppa, un po' patè e alcune spugnette per nettarsi i denti. Maria Antonietta acquista un SSR da 100 pezzi dell'ebanista Palma. Napoleone ingaggia il famoso BN per farsi costruire vari esemplari per parenti, amici e ufficiali alla vigilia della campagna d'Italia e di quella d'Egitto. Non esiste alcun bisogno che non venga soddisfatto in viaggio da uno di questi SSR. Scrive nelle memorie nel 1832 l'orgno duchessa da Brantè, riferendosi a quello di Paolina Borghese e rammentandoci il ruolo a cui sono chiamati a rispondere questi straordinari campionari di utensili. La prima caratteristica è la robustezza della cassetta e l'estrema precisione con cui i singoli oggetti si compongono. entrano l'uno dentro l'altro e combaciano con i rispettivi alloggi. Scosse e urti della carrozza non consentono d'eroghe alla massima precisione. Gli oggetti dei SSR più completi, come quello di Paolina Borghese che comprende 96 pezzi, possono essere suddivisi in tre gruppi. 40 per la rifocillazione, 46 per la toletta e 10 per scrivere e per cucire. Sono queste infatti le principali funzioni a cui devono rispondere, sia durante il viaggio sia nelle stazioni di posta dove in vano pretenderemmo prodotti di lusso come il caffè, il cioccolato o un infuso a base di fiori d'arancio contro l'insonnia. Col diffondersi presso una vasta clientela di questi cofanetti di delizie, le dimensioni dei contenitori tendono a ridursi, mentre diminuisce il numero degli articoli contenuti dei quali si semplificano forme e decorazioni in ossequio a una sempre maggiore funzionalità e trasportabilità. La caratteristica eccezionale di questi SSR è che alla calibrata precisione e alla massima robustezza abbinano l'eleganza degli utensili. Inoltre sono quasi tutti provvisti di un cassettino con lo corrente per scrivere e di vari scomparti per gli effetti personali. Si possono avere cofanetti per ognuna delle funzioni accennate, ma il fascino effettivo è legato all'integrazione di funzioni diverse. È questa integrazione che li ha resi indispensabili al viaggiatore raffinato, il quale non se ne separa in alcuna occasione. Maria Antonietta portò con sé il proprio SSR nella fuga a Varenne e Napoleone non rinunciò a due dei suoi quando dovete imbarcarsi per Sant'Elena. Ma al di là di questi esempi illustri, nel corso degli spostamenti e delle soste impreviste, questo oggetto attesta agli occhi del viaggiatore la promessa protratta dell'agio e la presenza rassicurante del lusso. Il SSR de Voyage è uno di quegli oggetti a cui il viaggiatore è legato non solo per i servigi che rende a ogni ora del giorno, ma per il piacere connesso al suo stesso utilizzo. Scatole magiche. Alla confidente e rassicurante famiglia del SSR appartengono da un lato le dispense per la cucina o contenitori per oggetti d'uso quotidiano e di conforto e dall'altro le farmacie portatili. Una serie di utensili elencati dai manuali di viaggio mettono in evidenza come il SSR riunisca in maniera razionale ciò che troviamo alla rinfusa nelle sacche del viaggiatore. Coltelli tascabili, posateria, tegliere, bricchi di latte, pentoline, bicchieri che si schiacciano, penne, temperini, inchiostri in polvere, rasoi, sapone, vasi di caucciù, aghi, filo, fettuccia, matassine di lana, spigli e così via. Grazie alle dispense portatili poi il viaggiatore è in grado di cucinare leggere colazioni durante le soste e di condire i cibi delle locande con salse che si è portato da casa. Gli saranno allora di particolare utilità il fornellino che talora funge da lampada e la scatola con l'acciarino e l'esca fosforosa. Anche le farmacie portatili sono contenute in astucci di mogano o di pelle foderati di seta imbottita e comprendono preparazioni farmaceutiche, qualche semplice strumento chirurgico, bisturi per i salassi, bocce e boccette, termometri, bilancini, misurini per liquidi, un piccolo mortaio di vetro o di marmo con il pestello, una grattugia per il rabbarbaro. Testo sacro del turista ottocentesco è il London and Edinburgh Dispensatory che figura nelle biblioteche portatili e che elenca i medicinali d'obbligo nelle cassette farmaceutiche. Astringenti, polvere di James, olio di ricino, corteccia, sali odorosi, etere, oppio puro, laudano, paragoric elixir, ipercaquana, tartaro emetico, acido vetriolico, olio di lavanda, essenza di lavanda, fiori di camomilla, distillato di colonio, calomelano, carbonato di soda, unguento per le vesciche, cauterizzanti, fasce e garze. Il Manuel du Viager del 1771 consiglia l'uso di un'assai più sobria cassettina con fasce, vende di lino, acqua di colonia, pelle di vescica, due fiasche, l'una d'acqua distillata, l'altra d'acqua salata, più una terza fiaschetta d'acqua di luce e una boccetta d'agresto o di aceto. Il viaggiatore previdente avrà a portata di mano non solo quanto attiene alla propria salute, bensì all'igiene personale e a quella degli ambienti nei quali di volta in volta dimora. Dal momento che nel viaggio in Italia è necessario portarsi dietro lenzuola e coperte, secondo il consiglio di Mariana Stark sarebbe opportuno piegarle ogni giorno per ridurne l'ingombro, ricoprirle di una custodia e sistemarle nella carrozza in luogo dei cuscini. Una volta giunto alla locanda, qualche goccia di essenza di lavanda sul letto eliminerà per la nottata cimici e pucci, mentre la stessa dose di acido vitriolico, versata in una caraffa d'acqua, farà depositare sul fondo le eventuali particelle nocive rendendo l'acqua potabile. Ma l'oggetto da viaggio di gran lunga più diffuso è lo scrittorio portatile, il writing box degli inglesi, che consiste in una cassetta di legno pregiato o di radica di noce munita di uno scomparto per le penne, di una boccetta d'inchiostro, di un contenitore per la cenere o altra polvere assorbente col coperchio bucherellato, di altri scomparti per la carta, nonché di ripostigli segreti che s'aprono a molla per cosucce riservate o di valore. Una volta aperta, la cassetta forma un ripiano inclinato, coperto di pelle o di velluto, sul quale scrivere. In osseguio a una lunga tradizione, molti viaggiatori, specie britannici, hanno con sé una scatola di colori all'acquarello e una cartella di fogli che, come ci narrano i diari di artisti come Tish Bane, Rogers, Samuel Palmer, John Ruskin o come dimostrano i taquini di Hilton e di Turner, nonché il portfolio di James Hakewell, adoperano nelle soste occasionali per il riposo dei cavalli o per qualche incidente al veicolo, oppure nelle tappe di più giorni nella medesima città. Strumento prediletto per il pittore di paesaggio o per il direttante è la camera lucida, che tramite un sistema di specchi consente di inquadrare e di rinfrangere su una lastra di vetro una scena, in genere una veduta, che il pittore disegna davvero appoggiandovi il foglio sopra. Horace Walpole mette in risalto la semplicità di uno strumento che può essere contenuto in una scatola che potrai portarti in grembo sul tuo calesse. Se d'altronde la camera oscura fornisce una versione per così dire meccanica e anodina della veduta o dello scorcio inquadrati, lontana dai canoni settecenteschi della bellezza ideale o della piacevolezza pittoresca, l'altro strumento invoga presso i pittori, il cosiddetto Claude Glass, dal nome del lorenese, suggerisce effetti tonali e gradazioni monocromatiche più pastose e indefinite e maggiormente consone a un'estetica del pittoresco. Infatti nel Claude Glass un vetro leggermente convesso, colorato o con il sottofondo nero, permette di inquadrare vaste porzioni paesaggistiche. Di piccole dimensioni e montato su un astuccio foderato di velluto, lo specchietto di Claude è uno strumento quanto mai maneggevole, un autentico feticcio per il pittore di paesaggi settecentesco. Edmund Goss ricorda che il poeta Thomas Gray viaggiava ovunque con in mano questo giocattolo, lo specchietto di Claude nel quale le forme del paesaggio si componevano in un lucente chiaroscuro. Come annota il pittore francese Pierre Henry Valenciennes, lo specchio rappresenta la natura con maggior forza e perfezione della camera ottica, perché la riflessione in esso è semplice e gli oggetti sono dipinti direttamente lì sopra. Secondo il teorico del pittoresco Thomas West, il Claude Glass è uno specchietto portatile nel quale il viandante può scorgere scene di paesaggio condensate e inquadrate alla maniera dell'orenese e soffuse della pastosa luminosità delle sue visioni dell'Isio. In un disegno del British Museum, Thomas Gainsborough raffigura un giovane che, la matita nella mano destra e l'album sulle ginocchia, guarda in uno specchietto convesso e leggermente affumicato che sorregge con la mano sinistra. Lo specchio serve a contenere in uno spazio ristretto e a sfumare i contorni dell'ampio paesaggio che ha alle spalle. L'Italia sembra fatta apposta dalla natura, come asserisce tra i tanti Thomas Jones, per servire da soggetto a un pittore di paesaggio. Alla vastissima schiera di pittori di ogni paese europeo e successivamente del continente americano, presenti in Italia, dobbiamo il multiforme specchio sul quale ricostruire, insieme al cammino dell'arte, l'incarnazione del paesaggio ideale. Le biblioteche in miniatura ricorrono in alcune carrozze lussuose. Si tratta di esemplari di grande pregio artigianale e tipografico, sia per quanto riguarda le banisteria del piccolo scaffale, sia per le legature dei volumetti il sedicesimo. La lentezza delle carrozze fa sì che non pochi turisti abbiano dei libri nelle ampie tasche delle loro palandrane o nelle borse. Immaginiamoci di assistere all'ispezione a cui viene sottoposto nel 1824 alla frontiera dell'Alta Savoia William Aslitt, che è diretto in Italia. Aslitt racconta che aveva due bauli, uno dei quali pieno di libri, da cui attingere, come si attinge, a una biblioteca personale. Quando i gendarmi l'aprirono è come se avessero sollevato il coperchio del vaso di Pandora. Non avrebbero assunto un'espressione simile nemmeno se fosse stato pieno di cartucce e di polvere da sparo. Ai loro occhi i libri erano il corrosivo che distrugge il dispotismo e il potere dei preti, l'artiglieria che abbatte castelli e prigioni, gli occhi di lince che svelano l'inganno. Aslitt conclude dicendo che un baule pieno di libri è il disprezzo gridato in faccia al potere costituito, mentre i titoli di questi libri vengono sillabati con patetica pertinacia dai solerti gendarmi, The Progress of Learning di Bacone, Il Paradise Lost di Milton, La Révolution Française del Mignet, i discorsi dello Irving, un'antologia di poeti, alcuni numeri di riviste letterarie e un'edizione francese dei suoi table talks. Per le mentalità più ottuse e retrive, fra una biblioteca e una santa barbara non c'è differenza. Il guardaroba del viaggiatore. Attorno alla metà dell'ottocento, più di un monitore della moda, sentenzia che è passato il tempo in cui si mettevano da parte riservandole ai viaggi vestiti stinti o cappelli sformati. Gli abiti della nuova itinerante borghesia non devono essere né troppo eleganti né troppo trasandati, ma assumere un proprio stile e una propria fisionomia. Sarà quindi necessario l'uso di una stoffa poco soggetta a gualcirsi, fresca e gradevole da indossare. È abbastanza robusta da resistere agli inevitabili strappi, alla polvere delle strade, alle luride stamberghe postali e quindi al fumo che le locomotive e i battelli a vapore non potranno che vomitare addosso al viaggiatore. L'abito coevole macchine a vapore è ampiamente documentato da innumerevoli figurini, molto meno è invece il modo di abbigliarsi del turista in epoche anteriori. Per lunga tradizione infatti il vestiario del viaggiatore si è sottratto ai mutamenti del costume, alla volubilità della moda e a ogni eccentricità. Fino al XIX secolo, l'abito indossato comunemente nei lunghi tragitti non è altro che il vestito smesso per usura. Non di rado le donne, grandi protagoniste del Grand Tour e del viaggio in Italia, usano abiti maschili, opportunamente riattati, sia per travestirsi da uomini, sia per avere maggiore agio nei movimenti. Ciò non toglie che l'abbigliamento rivesta una grande importanza nella vita del viaggiatore, che deve affrontare giorno per giorno l'insicurezza delle strade, la scarsa affidabilità delle carrozze, gli incidenti e l'incremenza del tempo. Per quanto esile, l'abito costituisce pur sempre uno schermo contro le insidie, i pericoli e i disagi del viaggio. Esso deve essere in grado di conciliarsi con le condizioni atmosferiche e ambientali più varie, dovendo esibirsi in ogni stagione e adattarsi alle escursioni termiche più marcate. Menzione a parte, esigono quelle situazioni in cui il viaggio si trasforma in una vera e propria esplorazione di plaghe, invase dal rigoglio di una natura indomita e selvaggia. Ce lo rammenta l'etruscologo George Dennis nel 1844. Chi non è pronto ad affrontare un'impresa disperata non si avventuri nel sito di Roselle, specie se non è munito di vestiario o scadente o abbastanza robusto e a prova di spine. Le signore lo dovrebbero considerare una curiosità vietata, ancor più di un convento certosino. E comunque, prosegue Dennis, chi intende visitare questo luogo si ricordi il proverbio tal carne tal coltello e abbia cura di premonirsi per l'impresa. Di solito abbastanza prolissa la Stark si limita a consigliare pochi capi di vestiario, confermando la tradizione secondo la quale quello del viaggiatore è sempre un guardaroba di recupero. Ella suggerisce poi di mettere in varigia calze di lana trasparenti, abiti di flanella, scarpe e stivali con doppia suola comune o di sughero per affrontare il gelo dei pavimenti di marmone delle gallerie d'arte e delle chiese italiane. Caratteristica basilare del guardaroba da viaggio femminile è la mancanza di articolazione, consistendo l'abito in una gonnella e in una casacca, entrambe abbastanza ampie per consentire movimenti bruschi e improvvisi, e in un mantello, erede dell'antica cappa con cappuccio, nel quale si avvolge l'intera persona. Quante volte il mantello diventa una calda coperta negli improvvisi giacigli delle locande di posta, o una confortevole protezione nelle soste impreviste? Dal mantello deriverà un capo turistico per eccellenza qual è il waterproof inglese, e quindi lo spolverino per difendere le vesti dalla polvere della strada e dai fiumi e dai vapori dei mostri meccanici. Il mantello si rivela un capo confortevole e, considerata la promiscuità inevitabile di carrozze e locande, protettivo ed elusivo a un tempo. Ciò in consonanza con l'altra caratteristica dell'abbigliamento femminile, sulla quale si soffermano tutti i vademecum dei viaggiatori, vale a dire la mancanza rigorosa di ogni lusso, giudicato scomodo e ridicolo, oltre che pericoloso, per l'incauta viaggiatrice. La donna che si accinge a intraprendere lunghi viaggi dovrà evitare, come consigliava Stendhal alla sorella Paolina, le vesti bianche, i cappellini a piume, i merletti e i gioielli. Sarà, semmai, sua cura ricavare fra le abbondanti pieghe dell'abito varie tasche e saccocce per contenere oggetti di valore, danaro e utensili in miniatura da cucito e da toletta, altrettanto sobrio e uniforme, si presenta il guardaroba turistico maschile, dominato in primo tempo dal mantello a ruota o da più leggero e corto ferraiolo, e quindi dalla pastranella, ovvero sia un cappotto a più baveri, a imitazione del pastrano indossato da cocchieri e postiglioni. Per il resto anche l'abito maschile deve essere, come diceva Goethe, adatto a tutte le stagioni e abbastanza robusto da poter affrontare qualsiasi avventura della strada e in cremenza atmosferica, uragani compresi. Naturalmente l'abito può variare, a seconda dei paesi che si visitano e delle contingenze specifiche, ma come ci ricorda William Boyd, medico e autore di A Gid e Pocket Companion Throg Italy del 1830, il guardaroba turistico fa parte di un sistema più ampio di utensili e di oggetti. Se d'inverno i protagonisti dell'abbigliamento maschile e femminile sono i mantelli a rotolò, le palandrane e gli stivali, d'estate il migliore abbigliamento è costituito da un berretto bianco, panciotto leggero, pantaloni chiari, giacchetta di stoffa fine, ottima è la saia nera, camicia di flanella o di tela di cotone. Quindi il nostro medico prosegue dicendo che nel corso della giornata il viaggiatore dovrà portarsi dietro l'ombrello e mettere un fazzoletto bianco sotto il cappello per intercettare i raggi del sole. Coloro che viaggiano sprovvisti di lenzuola proprie non dovranno mai spogliarsi del tutto nelle locande postali. Continueranno a indossare pantaloni e panciotto oppure si avvolgeranno in un ampio camicione da notte avendo cura di allentare cravate, bretelle, cinture, tiranti e bendaggi di ogni genere. Sperando poi di dormire naturalmente.